e confermo che siete capaci di un'energia di cui forse nemmeno voi rendete conto in generale io consiglio sempre, una cosa migliore che si può fare dopo un concetto è poi praticamente adesso io quello che voglio consigliare di fare è appunto questo concetto è andare in casa e fare l'amore con l'amore, con l'uomo, con l'uomo, con l'uomo e con l'uomo stessa sera da soli, però fate e poi finalmente quando avete fatto l'amore potete ottengarvi fate i sogni che dovete fare, sognate un paese che è un paese molto diverso da quello in cui viviamo e che è un paese che vorrei ricordarvi che non è di proprietà di chi lo governa ma di chi lo avrà. Vi auguro di sincero che voi facciate i sogni che meritate di un paese che meritate perché come aveva detto l'inizio, secondo me, voi vi meritate tutti.